Regione Toscana, il Consiglio regionale. La Commissione Ambiente e Territorio nell'ultima seduta ha approvato a maggioranza la proposta di legge per il Governo del Territorio che semplifica le procedure per accesso ai fondi del PNRR, anche al fine di velocizzare le opere. La proposta di legge che ora passa l'esame dell'Aula è stata licenziata a maggioranza in Commissione. Sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. La cosa più importante che abbiamo fatto oggi senza nulla togliere il resto è l'approvazione della proposta di legge numero 92 sulla quale si è molto discusso. Una proposta di legge afferma Partito Democratico che velocizza le procedure per quanto riguarda le realizzazioni di opere pubbliche e urbanistiche di progetti finanziati con i soldi del PNRR. Abbiamo intercettato la preoccupazione di molti sindaci che ci dicevano noi i progetti li facciamo, i soldi forse riusciamo anche a intercettarli ma poi le procedure che ci sono sono assolutamente troppo lunghe per arrivare alle scadenze previste. Questo non pregiudica a parer nostro nessun alleggerimento dal punto di vista della protezione né del paesaggio né ambientale né igienico-sanitario. Insomma abbiamo letto tante cose, alcune ci sono servite. Abbiamo stamani infatti approvato una proposta di legge con un testo sostitutivo che teneva conto anche di alcune osservazioni che il dibattito pubblico ha agevolato. L'esame è stato lungo perché c'erano diverse proposte, la prima e la più complessa delle quali è la proposta di legge targata PD per semplificare il percorso urbanistico e pianificatorio delle opere che hanno un finanziamento totale o parziale da parte del PNRR. Una proposta che parte su presupposti condivisibili ma che secondo noi presenta profili di criticità, il primo dei quali è un ruolo assolutamente invadente da parte della conferenza dei servizi che verrebbe di fatto ad essere l'organo che decide dove si fanno determinate scelte e dove si fanno determinati impianti e questo è un elemento sicuramente di rilievo. In danno di chi? In danno dei consigli comunali e della politica. La politica di fatto viene commissariata per i tempi stretti del PNRR per cui lo sviluppo delle città non è più rimesso agli eletti del popolo ma viene rimesso ai tecnici che in qualche modo si prenderanno gravi responsabilità anche nel determinare dove appunto andare a realizzare determinati impianti. C'è stato poi una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi che per la verità sono stati tutti respinti dalla maggioranza ad eccezione di uno presentato dall'assessore Baccelli che ha introdotto un'ulteriore fattispecie di deregolamentazione per quelle varianti che per i comuni che non hanno il piano operativo nuovo, non hanno ancora completato il piano strutturale cioè solo nel regime di salvaguardia, consentirà in realtà sempre con variante di poter fare delle opere di ampliamento anche con destinazione turistica o ricettiva e anche con destinazione residenziale purché comunque relativi a finanziamenti diretti o indiretti del PNRR. Anche da questo punto di vista il nostro è un giudizio in chiaro scuro perché introdurre elementi di eccezionalità e di deroga alle competenze di pianificazione sulla base non di valutazioni di igiene pubblica, di sanità come a volte succede, è successo per esempio in materia di rifiuti ma farlo solo in considerazione del fatto che ci sono dei finanziamenti a disposizione introduce un precedente pericoloso. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale si è parlato di liste di attesa per le visite mediche dei cittadini anche dopo il caso dell'ospedale di Pisa e delle priorità territoriali, argomento questo che ha aperto un dibattito in Toscana e all'interno delle ASL sul criterio più giusto da adottare per smaltire le liste di attesa. Le liste di attesa sono una delle cose più brutte che possono accadere all'interno del sistema pubblico e della pubblica amministrazione in generale e della sanità in particolare perché le liste di attesa lunghe comportano due questioni. Se si hanno soldi o amici si va alla clinica privata o si supera la coda se non si ha né soldi né amici si rischia di morire perché un esame avviene troppo ritardo. Allora per una sanità che costa miliardi di euro c'è bisogno di poter dare delle risposte efficienti delle risposte immediate, delle risposte urgenti e da questo punto di vista è evidente che si deve organizzare meglio le strutture ospedaliere, si devono fare le scelte sulla base di un principio di competenza e di merito e non di amicizie politiche perché il moltiplicarsi dei primariati, il moltiplicarsi di determinate situazioni è chiaro che fa sì che il sistema non sia efficiente e su questo noi continuiamo a chiedere, lo faremo con forza nelle prossime settimane una commissione di vigilanza sulle nomine in sanità. Allora c'è anche un tendenziale equivoco nel senso che a Pisa si sta parlando delle visite base di primo livello di alcune visite non quelle che caratterizzano gli ospedali come ovviamente Citanello cioè le visite di secondo livello che non hanno assoluta limitazione per nessuno sono aperte a tutti, anzi lo dicono i dati sull'attrazione, Cisanello è uno degli ospedali toscani che ha maggiore attrazione, cioè sono tantissime le persone che non solo da altre parti della Toscana ma anche da fuori regione vengono. Lì si tratta di un percorso di abbattimento dei tempi di attesa ogni ospedale ha come riferimento principale i cittadini residenti nel proprio bacino quelli universitari e anche gli altri ospedali e su quello devono garantire il rispetto dei tempi poi ovviamente hanno liste aperte anche per tutti gli altri cittadini quindi ogni cittadino dovrebbe avere il punto di riferimento nell'ospedale di residenza perché sono visite base non da ospedale universitario. Questo è il primo elemento a chiarire perché si è detto ma allora gli ospedali universitari garantiscano le prestazioni solo per chi risiede in quella città non è assolutamente così. Ovviamente la situazione è così da almeno il 2017, il 2016, il 2017 quindi non c'è nessun tipo di novità se non per il fatto che con il covid sono saltate molte liste d'attesa e quindi trovandosi la gente, liste chiuse da tante parti, cosa che non dovrebbe essere ovviamente è venuto fuori anche questo che è un elemento semplicemente per garantire il rispetto dei tempi di attesa e che si calcolano con i cittadini di riferimento dell'ospedale però non c'è nessun ospedale chiuso e noi speriamo, chiediamo alla Giunta abbiamo già chiesto il piano di abbattimento delle liste d'attesa nelle prossime settimane possa produrre i propri effetti e superare anche queste strutture Sì, il problema delle liste di attesa è il problema principale che stanno vivendo coloro che devono fare le visite in Toscana è un problema che abbiamo visto anche di recente, anche per malati gravi, per i malati oncologici abbiamo visto che questo sistema sanitario regionale che vede gli ospedali di serie A di Firenze, Pisa e Siena dove si è accentrato tantissimo lavoro, tantissime competenze a livello medico ha spennato letteralmente quelli che sono i piccoli centri ospedalieri dei nostri territori causando chiaramente problematiche veramente importanti per i cittadini che devono fare visite diagnostiche di altro tipo, anche per malattie gravi come gli oncologici lo abbiamo visto sulla stampa in questi giorni però chiaramente basta alzare il telefono e provare a chiedere e a prenotarsi per una visita per capire quanto questo problema sia il problema principale oggi della sanità in Toscana anche in virtù del fatto e delle restrizioni che si sono avute a seguito del Covid che purtroppo ha portato tantissimi malati gravi a programmare a non avere quella urgenza e quella condizione immediata di cura che invece era necessaria è uscito in questi giorni il primo ebook dedicato alla storia del premio Innovazione Toscana e delle imprese e start-up che innovando hanno iscritto il futuro del nostro territorio il volume raccoglie le progettualità vincitrici dell'ultima edizione del premio Innovazione 2021 e quelle delle edizioni precedenti già a partire dal 2017 si parla di oggi, si parla della capacità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi di cambiare il mondo perché in tutto questo ci sta la nostra idea di Toscana una regione con le sue radici ben radicate con la sua storia, la bellezza, la sua manifattura ma anche quelle ali, la capacità, la voglia di guardare con speranza, ottimismo verso il futuro solo anticipando il progresso, solo capendo dove, quali sono le evoluzioni che il mercato ci propone noi saremo in grado di scommettere meglio sul futuro allora o la politica ha la capacità di anticipare il progresso, di investire nell'innovazione di farsi sentire a fianco delle tante ragazze e dei tanti ragazzi che escono dalle nostre università o che vogliono creare una spin-off della propria azienda e fargli sentire che noi ci siamo, che le istituzioni sono al loro fianco oppure noi lo svolgeremo così come dobbiamo il nostro compito voglio mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani scommettete sul futuro, cercate di pensare qual è la traiettoria che il mondo sta prendendo e cercate di costruirci impresa, lavoro perché solo così noi possiamo lasciare ai nostri figli un futuro migliore il premio Innovazione va in questa direzione l'ebook che oggi presentiamo va in questa direzione un libro che vorrei potessimo portare nelle scuole per far capire alle ragazze e ai ragazzi più giovani quelli che oggi seguono la scuola secondaria superiore che solo credendo in se stessi ci sarà può fare e così possiamo costruire un futuro migliore è una sfida impegnativa, una sfida che non ci dà forse il consenso oggi dal punto di vista politico ma che costruisce il consenso della Toscana in un mondo migliore Per quanto riguarda il premio Innovazione, per quanto riguarda il Dice di Innovazione Lab la Confindustria, soprattutto questo accordo che stiamo facendo questa sinergia insieme alla regione quindi pubblico e privato che si mette insieme per creare e stimolare i giovani stimolare le start up ma non solo ma anche le aziende stesse ad avere nuovi progetti e nuovi prodotti e poi diventeranno nuovi prodotti futuri per il mercato è fondamentale, fondamentale per cercare di far capire ai giovani che si può fare innovazione in Italia, si può fare innovazione a Firenze si può fare innovazione e creare aziende anche nei nostri territori Il nostro progetto, perché appunto non faccio parte dei fondatori ma collaboro sulla città di Firenze con questa start up ha vinto nell'ambito della sezione sostenibilità, il secondo posto ed è un progetto che ha l'obiettivo di eliminare il packaging monouso quindi tutto ciò che è legato appunto al cibo d'asporto proponendo un contenitore riutilizzabile appunto per l'asporto quindi i nostri clienti sono ai ristoranti affinché i clienti invece finali quindi gli utenti finali possono soffrire il servizio in maniera gratuita Aperta fino al prossimo 22 aprile presso il centro Expo di Palazzo del Pegaso a Firenze la mostra fotografica intitolata Voci di Libertà con immagini dedicate ai combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale La mostra racconta una pagina di storia poco conosciuta quella dei soldati italo-americani che durante la Seconda Guerra Mondiale combatterono nel nostro paese con la divisa dell'esercito americano per liberare dal nazifascismo la terra in cui erano nati i loro genitori o i loro nonni I numeri sono difficili da quantificare però possiamo ipotizzare che almeno gli italo-americani furono 850.000 Poi furono svariate migliaia anche gli italo-australiani, italo-canadesi, italo-brasiliani e italo-britannici però come dicevo non è semplicissimo stabilire un numero esatto Originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità però con la scoppia della guerra gli italiani all'estero si trovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne Ecco da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si vuole dimostrare il proprio filo-americanismo in primo luogo ma patriottismo a livello generale Pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto qualche mese fa quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra fui così colpito che dissi facciamola subito ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina i genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo quello ucraino e questa mostra è un modo per dire grazie grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra erano figli di emigrati soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia i loro avi e credo che insomma ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie ma anche per dire una cosa importante che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte ma bisogna lavorare tutti insieme ognuno per quello che può perché in Ucraina torni la pace Regione Toscana il Consiglio regionale Regione Toscana Regione Toscana